come va tutto bene tutto a posto ma io non sto parlando con nessuno perché in realtà non c'è nessuno guarda che friggio esperti come abbiamo finito almeno sei di livellare manco una quindi oggi l'unica cosa che non voglio sentire mazza che parte facile che è no no parlo perché si è steven non per gli apri a scimmia ma che gift scammate a o porco dio scimmio scusa grazie veci che viola che viola non è zonza quel coglione di merda a oa ricarica facciamo con un con facciamo con un criterio con un criterio esatto torca madonna sì sì marco lì mette la finiamo no ma si già cominciava a scienare guarda quanto so forti tico 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 no no tico tico tua madre quella troia dio cane ragazzi ma che si già l'ha fatto ho preso no non l'ho già fatto ho preso un checkpoint non ci vuole un cazzo già comincia già comincia sono tutti qua ma si l'ho fatta adesso l'ho fatta l'ho trovata due volte vedevici sale il caso serve una spinta arrivo arrivo allora capivo un attimo dovevo a da becci ma questa è una cazzata ma sì perché qua ci vuole in cadevi guarda da sopra fidate mi ha spinto dietro tangi mi ha spinto dietro mi ha spinto ma spinto zazza dietro non so stato 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 salvatore e date la spinta vedate la spinta da meno spi mi devi spiega come un canso porco diretti lineo è difficile c'è questo sai perché perché hanno fatto le macchine che vanno storte pure se tu vai dritto sempre c'è pure se c'è il joystick che è per madritto la macchina va storta dio cane guarda o stai zitto porca madonna no zitto da no 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 ne abbiamo perso un aiuto aiuto no porco dio quanto bestemmio se casco dio ma andiamo a farlo tutto di fila ma stai ziii ma che tutto di no ragazzi a pippo sei proprio un nennò ciao ragazzi gianmarco l'ha già fatto gg no adesso no io sto con penetrato l'uomo che non mi interessa è veloce ma è gianmarco zitti 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 dio cane è impossibile sbagliare ma che cos'è sta roba che mostra roger e mi sta inculando chi è che mi sta nessuno nessuno il mago che l'ha fatta e tangi no si devi accelerare altrimenti non c'è non vedi che dietro c'è lui no ragazzi ma basta ma dai sei proprio o sei un figlio di puttana dio cane ti devono sparare in testa dio porco il mago di babele guagnazzata dai ragazzi io poi sono uno di quelli che c'ha la concentrazione a uno se la perde subito poi è finita no no ragazzi c'ho il controller che porca madonna va a destra ma c'è di puttana vai gianmar vai gianna vai gianna vai gianna bravo spinge ancora dai che lo passo oddio che tumore levati dal cazzo stai zitto stai zitto zitto ho preso il checkpoint no gianmarco l'ha fatto che giocatore ricordo mamma che mi chiamava si per stai zitto l'ha fatto l'ha fatto gianmarco bluur siiii siiii mamma pur di levarmi dal cazzo l'umaca di spongebot divento bistard porca madonna no no sai che ieri mi sono visitato di bistard ti devi calma ti devi andare in quello blu ah so bollente no si devi andare in quello blu dai che panno spesso vivo sono vivo sono uno di loro incredibile vedete la citto fra la testa devi stare fermo oh vai non va a sping fatta l'ho fatta gire te la tartaruga gire te oddio lì c'è il checkpoint siiii siiii nooo sono con le due persone oddio sono il mago 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 che devo fare qui perchè c'è stai fa cerbiato no eeeh furetto vedi entro là dentro do aspetta cerchio oddio devi respawnare bravo io non mi levo io non mi levo mi levo mi faccio una bella serata qui oh oh che caccia fa il dio porco non hai fati da lì parati ma te adoro lo strogo vado fuori con lo strogo ma io ero dove si accerco oh 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 no 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 cristo il cane maledetto ma guarda dove sta pieno lo so che lo prendo ecco oddio ti prego prendilo ti prego prendilo il mago il mago il mago che è sta roba sulle tende vabbè questa è una cazzata oh ma sono il mago ma sono tipo il mago di babele sono oh no no è quel glide no è il glide no zio lo sto sboccando come cazzo si fa sta merda regalo mi giuro è facile però nooo voglio morire non mi riuscirà mai più nella vita no 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 se io rimango qui no se io rimango qui si no 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 ragazzi lo sapete quelle sono quelle cose che succedono una volta nella vita porco dio cioè dici se fermiamo qua zazzo? cioè dici non ne la facciamo più guarda zazzo che perfetta alzi 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 ho credito che ti hanno preso è bollente uuuuuh ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego nooo ti prego te l'ha preso no no Oddio, oddio mi sono girato benissimo, oddio l'ha masterato, l'ha masterato, è mio, è mio Dio sto planando sull'aria, l'ho preso, no l'ho preso per forza, l'ho preso per forza No, 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 no Sì, io, io lo vedi al cazzo, mi sono impazzito, guarda in che modo i fatti cominciano a zottare Sì, io sono impazzito, guarda in che modo, guarda in che modo, guarda la mia power� Non è vero, non è vero, buon mio E voi sta spingendo? E tu morevi Vabbè sto qua sopra, non so Invece Qui vuoi tirare il tuo cuore degli altri Sprint? Ma è sprint o non pesca? Spine? Io lo rifaccio No, vai a mio vasco, ti prego, dai La sola, la madre Ken, sei tu Fantastico Guerriero First Try Non c'è alternativa, devi buttarti Non ce la fai Marco, ma vai davanti È arrivato il suo Marco Ti divertiamo Non è arrivato ragazzi Dai, stai volendo di spingere, dai Ah, con calma Sì, sì, c'hai ragione, c'hai ragione Uno per uno, uno per uno, uno per volta Niente Oh No, mi fruto il naso No, mi fruto il naso Mi fa ridere, figlio di puttana magro del cazzo Noo Oh, porco Dio No, il naso che fa Chi cazzo è questo? Pippo che mi ha toccato Ah no, no Non è vero A mo' ha toccato le 23, dai Ho capito no no amico me lo banni per favore grazie si è in trattino basso DSM che si è concluso che si è concluso che si è finito che si è concluso ragazzi ragazzi calma cangi ti prego sei tutti noi vai piano piano di Okan dai dai che ti metto invece della benzina ti metto il peanut butter quanto manca no ma manca tantissimo ok signori se vi stavate chiedendo il king delle bestemmie 10 potrebbe uscire fra 10 secondi come potrebbe uscire fra 10 mesi come potrebbe uscire fra 10 anni ci va la donna eh già fatta Giammarco l'hai già fatta nato a Roma come il capitano Giammarco devi stare in diagonale devi stare basta che dai proprio piccoli tocchetti come sulla salita che si io t'avevo quello è casuale ve l'ho detto ragazzi ok no l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto che si grazie cosa significa il paracadute che si? siamo un ginetto per lo santos zitto c'è devo camminare che si è un grande grazie frate frate questo è il giallo questo è il proprio tumorale questa parte è un tumorale ma il glide per me è abbastanza banale guardami che si guardate si ti sto guardando io questo lo faccio cioè da destra aspetta aspetta mi metto 3 ok aspetta non mi devo guidare non glide però questo io vado piano vado molto piano guarda quanto Sanji dopo ti fa parkour cioè ti aspetto qui tanto vabbè il parkour ma l'ho fatto Sanji hai finito? si appena ti sentito l'ho fatto abbastanza banale onestamente quando si crasha per inattività è un problema aspetta io devo andare a un po' a crashare per inattività no stima che guardo glidare ragazzi c'è come vedere uno spastico glidare che esce perché scende perché non va all'insu perché non va all'insu oh piano oddio è pazzo l'ha fatto si bravo possono staccare adesso ci sta un checkpoint che è un po' difficile no questo non lo riesce mi calmi mi calmi guarda come è forte questo è un po' difficile il prossimo è una stronzata qua frena 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 no Gianmarco ma dove cazzo il cazzo voglio il cazzo voglio il cazzo ciucciarlo porco dio voglio ciucciare il cazzo no è una di quelle parti è una di quelle parti che mo non mi riesce più è una di quelle parti che mo non mi riesce più la prima botta ce l'avevo quasi fatta cazzo ma non dovevi proprio ero arrivato al terzo box stupido stupido gli ho salvato la serata alla fine ora me va a dormire io sono arrivato già marco no ciao non è arrivato di poco purtroppo mi sono divertito zazzo zazzo c'è qualcosa da fa che vuoi fa lo disconnetti all'infinito lumaga per favore disconnetti all'infinito ogni volta che entra esulta che si fa due con le mani per strai ragazzi 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 ragazzi